Il grande immobile non completato a Maregrosso nelle immediate vicinanze del rione Fondo Saccà è una delle offerte pervenute alla provincia di Messina per l'acquisto dell'hotel Riviera. Una permuta ovviamente ad immobile ultimato e non è l'unica proposta di questo tipo che l'ente ha ricevuto. Sono cinque complessivamente le offerte pervenute, come ha comunicato ieri nel nostro Tg il commissario di Palazzo dei Leoni, Filippo Romano. L'agenzia ha fatto in realtà quella che è una sorta di consulenza sulla vendita. Ha raccolto delle offerte serie, le ha portate alla provincia e la provincia adesso, finito il compito ormai dell'agenzia, sta mettendo a bando le offerte già pervenute, che sono cinque, di cui una in contanti e quattro permute. E fra queste permute alcune sono molto interessanti. Due di queste offerte ci offrono in permuta edifici scolastici e questo è molto importante e molto interessante perché la provincia si toglierebbe, scusate il termine, dal groppone, un immobile improduttivo che costa molto di manutenzione 10 e avrebbe invece una nuova scuola che è utile in questo momento come il pane. Sarà un'apposita commissione a valutare le proposte. L'offerta dell'immobile di Maregrosso appare comunque tra le più interessanti perché consentirebbe di realizzare, dove oggi c'è solo una grande impalcatura metallica, un istituto scolastico, liberando l'ente da un affitto e rivalutando una zona degradata. Il tutto dando in cambio l'ex hotel chiuso da 20 anni.